La situazione che viviamo in questi giorni in realtà è la stessa che viviamo ormai dal 2015 quando la Francia ha deciso di sospendere lo spazio Schengen e ripristinare i controlli alla frontiera Allora, dal 2015 è sempre stato così, ci sono dei periodi in cui c'è più controlli, dei periodi in cui meno ma comunque sono controlli che non hanno niente a che fare con i migranti in trans perché i migranti non passano in macchina con il cittadino di 20 miglia nel cofano le persone continuano a passare con i passori come sempre In frontiera, lungo la statale, l'impatto della polizia francese che controlla le auto effettivamente c'è è però importante capire che per la vita dei migranti e i controlli fatti ai migranti quindi i respingimenti, le riammissioni in Italia non sono mai cambiate e ci sono sempre state L'ipocrisia è su entrambi i lati, Italia e Francia In Italia perché comunque le persone in entrata, è vero, entrano in Italia ma poi per la maggior parte escono e qui a 20 miglia comunque è vero, i controlli ci sono, le persone vengono respinte ma a lungo andare su più tentativi riescono a passare E poi un'ipocrisia da parte francese perché oggi prenda pretesto questo fatto della NAVO-NG per respingere le persone per un controllo più fitto ma in realtà è quello che ha sempre fatto, continuando a respingere famiglie minori non accompagnati in violazione delle leggi molte persone che diventano vulnerabili dal punto di vista psicologico, psichiatrico è sicuramente una frontiera che in maniera più o meno diretta e indiretta cioè è molto violenta e c'è molta frustrazione, molto dolore c'è chi non riesce più a ricominciare Vengono delle contusioni ferite da percorsi, vengono respinte in modo... In questi anni noi ormai abbiamo purtroppo contato più di 35 persone morte nell'intento di attraversare il confine L'ultima, una settimana fa, un ragazzo afghano di 19 anni nascosto in un camion, è saltato in autostrada con il camion in corso ed è stato investito Bisogna assolutamente rivedere il trattato di Dublino perché fondamentalmente dove viene identificato devi fare richiesta d'asilo Il fatto che stupisce è che ci sono stati dei momenti storici in cui il trattato di Dublino non poteva essere cambiato, però in realtà proprio quelli che puntano i piedi e quindi Fratelli d'Italia, Lega, eccetera, hanno votato contro con tutta la parte europea divisa in gara Cioè i sovranisti diciamo Esatto